Il calo delle richieste nel settore motociclistico si fa pesante all'inizio degli anni 60. Benelli e Motobì decidono di unire le forze e nel 1962 nasce il gruppo Goben, gestione officine Benelli. Per un breve periodo le due produzioni rimangono ancora ben distinte ed è in questa fase che la Motobì presenta il modello Sprite 200 naturale seguito dei modelli Imperiale e Catria. Il classico motore ovale Motobì montato a sbalzo su un telaio viene portato a 200 cc e sviluppa 14 cavalli a 8.500 giri. Linea elegante e sportiva, manubrio basso, sella con codino, proposta nei colori rosso scuro metallizzato con fregi argento e nera con fregi bianchi. Classica moto sportiva italiana e sicuramente una delle più belle sul mercato. In quel periodo la Motobì coglieva vittorie a ripetizioni nelle competizioni nelle categorie 125, 175 e 250 juniors con le moto derivate dalla serie. Non esisteva miglior pubblicità delle vittorie. Di quel periodo lo slogan «Le corse migliorano la razza». Oltre 500 vittorie hanno selezionato la razza. Nonostante tutto la Sprite 200 non ebbe il successo che si meritava. Il mercato era distratto dal settore automobilistico e dopo solo tre anni la Sprite venne tolta dal listino. La Sprite 200 era la motocicletta dell'autostrada.